Allora noi riteriamo che con questa riforma costituzionale si vada ad arretrare quello che erano le nostre regioni, le nostre autonomie locali di 30 anni. Perché? Perché in questa riforma anche se viene presentata sotto l'auspicio del tagli dei costi della politica e quant'altro, in effetti i veri tagli ci sono nei confronti degli enti locali e in modo particolare delle regioni. Perché? Perché alle regioni verranno tolte moltissime di quelle che erano le prerogative regionali, dalla sanità, l'urbanistica, la protezione civile e via dicendo, anche se ovviamente poi la gestione di questi aspetti saranno ancora demandati alla regione, ma secondo il nostro forte dubbio saranno tagliate le risorse alle regioni. Questo non va bene, le regioni sono quelle che in questo momento stanno aiutando i comuni a sopravvivere, perché non dimentichiamo che i comuni sopravvivono oggi come oggi, grazie anche a una serie di contributi che le regioni sta dando. Probabilmente per altre regioni non è così, le regioni spreconi, ma soprattutto in Lombardia, una regione dove è all'apice per quanto riguarda quello che è il risparmio, non possiamo permetterci che ci vengano tolti altri soldi ed altre mansioni. Per cui il 4 dicembre vi invitiamo a votare no.